Bilancio positivo per questa edizione della Coppa Aico, Coppa Aico in Rosa e Coppa Touring. Tre giorni di regate, abbiamo un po' tremato il primo giorno perché il vento ci ha fatto attendere parecchio, poi è uscito e ci ha consentito di fare una splendida prova con vento. La seconda giornata abbiamo avuto delle condizioni con un vento che saltava, quindi un campo di regata molto tecnico ma che ci ha comunque permesso di disputare delle buone prove e oggi la giornata conclusiva si è svolta nel migliore dei modi con il vento che è arrivato fresco alle 12 e ci ha permesso di concludere bene il programma di regate con 300 imbarcazioni tra cadetti e juniores e quindi sicuramente un evento da ricordare. Delle condizioni assolutamente particolari per il lago di Bracciano, soprattutto ieri, oggi un po' più stabili. Insomma comunque dobbiamo dire che l'evento per questi grandi numeri è andato molto bene, siamo molto soddisfatti. È importante anche la location, siamo qui presso l'aeroporto Vigna di Valle dell'Aeronautica Militare con ampi spazi, l'ideale per un evento con 300 ragazzi che si possono muovere in totale sicurezza quindi sicuramente la location giusta per questa fascia di età. Il comitato organizzatore, appunto il comitato Bracciano Sailing, costituito da alcuni circoli del lago ha fatto veramente uno splendido lavoro. E questa manifestazione rientra nell'ambito delle 320 regate che si svolgono qui nel Lazio. Abbiamo 82 circoli, oltre 13.500 tesserati, siamo la prima zona in Italia e quindi sicuramente una di quelle che spinge di più con l'attività sportiva. I risultati sicuramente in parte stanno arrivando anche con l'attività giovanile. Giusto per ricordare qualcuno, Veronica Fanciulli che ha vinto quest'anno il campionato youth con le tavole e l'altro anno ci ha regalato la medaglia d'argento alle Olimpiadi giovanili.